42 N.E.R.D. Allora, io e il signor Calorano adesso vi parleremo di questo film. Allora, intanto qui al Junket londinese, qua faccio vedere un po' di corridoi così. Al Junket londinese abbiamo intervistato parte del cast, purtroppo non tutti, non i protagonisti assoluti perché non avevamo Mark Hamill, non avevamo Desi Ridley, non avevamo il regista, non avevamo John Boyega, dice chi c'avevi? Il signore qui, Adam Driver, sì, incredibile, l'abbiamo avuto. Beh, quando Linkristi, alias Brienne, Dittart, Fasma, in questo film, un po' di altra gente, Andy Serkis, leggenda vivente, fantastico, meraviglioso, e un po' di altra gente, sì, che poi vedremo, vedrete su Movieplayer, le interviste, anche qualcosa magari riuscire ad andare proprio su Lega Nerd. Allora, l'intervista della vita comunque è stata quella R2D2, rendiamocene conto, cioè abbiamo intervistato il droide più figo, più simpatico, più bello di tutta la storia del cinema, quindi grandissima soddisfazione. Per quanto riguarda il film, per quanto riguarda il film, io sono un po' combattuta, sono un po' combattuta perché volevo tantissimo che mi piacesse alla follia questo film, volevo che veramente proprio, non lo so, cioè, io sono una di quelle persone a cui il film di J.J. Abrams, il settimo capitolo, il rispetto della forza, è piaciuto. È vero, ricalcava l'originale degli anni 70, però, insomma, secondo me era un film abbastanza riuscito perché redava una nuova partenza al franchise, introduceva nuovi personaggi, c'era comunque l'epica, c'era comunque Star Wars, secondo me, e quindi, insomma, poi c'era J.J. Abrams, che abbiamo un debole per questo allievo di Spielberg, e quindi questo veramente era importante, c'era il ritorno del Luke Skywalker, il lato oscuro, il lato chiaro, cos'è veramente la forza, il re, i perché, chi è, chi sono i suoi genitori, manco la signora in giallo poteva dare queste risposte, e qui ci aspettavamo qualcosa, magari non risposte, ma sicuramente l'epica, sicuramente la mitologia di Star Wars. E invece, cosa succede in questo film? Cosa succede? Ci sono un sacco di cose che mi hanno lasciato veramente, veramente, veramente perplessa, perplessa perché sono adatte più a un film, adesso qua lo dico, a un film della Marvel, a un cinecomic, con questo umorismo esasperato, ci sono delle cose che proprio non mi sono piaciute, non posso fare spoiler, ma a un certo punto un personaggio centrale, in una scena centrale si fa così sulla spalluccia, perché? Oppure un altro personaggio centrale sembra essere morto, nello spazio si riprende, una cosa che va contro tutta la mitologia di Star Wars, una roba contro tutto l'universo, contro cose che sapevamo. Perché? Perché? Sono un po' preoccupata, perché appunto a me queste cose mi fanno un po' storcere il naso, e è vero che sono spesso clemente con i cinecomics, perché alla fine sono divertenti, anche questo alla fine è divertente, questo film, sicuramente, però per un film come Star Wars non mi aspetto questo trattamento, mi aspetto qualcosa di più, e quindi soprattutto mi aspetto il rispetto dell'universo, della mitologia, non diciamo il voler strizzare per forza gli occhi a un pubblico nuovo, a un pubblico giovane, che magari appunto non sa tutto questo, tutto quello che c'è dietro alla mitologia. D'altra parte però ci sono anche delle cose positive, ovviamente, ci sono almeno due scene molto molto belle, una trovata interessante su un combattimento che si fa su un terreno che è tutto, c'è del rosso, per non spoilare un'altra parte in cui si incrociano delle spade laser, e che Loren qui ne sa qualcosa che è molto bella, c'è anche la voglia di ampliare la mitologia e creare nuove creature proprio, nuove alieni, è bellissima tutta la fauna, la nuova fauna, i volpi di ghiaccio, i porg, sono carini, sono simpaci, quindi sicuramente su questo va bene. Sul resto però parliamone, confrontiamoci, ma st'ultimo Jedi, no? Ma siamo sicuri che doveva proprio prendere questa piega? Non lo so, c'è anche, qua non posso proprio spoilare, un personaggio che ritorna dal passato, è bellissimo che abbiano preso la vecchia grafica, la grafica originale dei film anni 70 e 80, però poi anche lì è usato male, è usato un po' a cavolo, perché? Perché non rispettare i personaggi? Non lo so. Poi parliamo dei personaggi nuovi. Allora, Finn si deve dare una svegliata, è un po'... cioè, non regge il nuovo personaggio che le hanno messo accanto, Rose, insieme, mio Dio. Il personaggio di Benicio del Toro, che doveva essere un nuovo Lando Carlissian, questo truffatore, questo criminale, insomma, affascinante, anche un po' ambiguo, è usato malissimo, buttato lì così, non si capisce che cosa ci faccia realmente in mezzo agli altri, e è come il personaggio di Laura Derna. Poi stiamo parlando di attori meravigliosi, fantastici, cioè, veramente gli dai qualsiasi... anche l'elenco del telefono in mano te lo trasformano in un personaggio della Madonna, e tu me li butti così, me li spreghi così. Ma perché? Perché? Un crimine, un crimine. Quindi, insomma, non lo so, non lo so, io speravo in qualcosa di molto di più, speravo di emozionarmi anche molto di più, con tutto il saluto all'addio a Carrie Fisher, Carrie Fisher pure qui trattata male, non posso spoilerare anche qui, ma c'è un certo punto, un paio di scene che proprio dice ma perché me l'avete trattata in questo modo? Perché? E poi, tra l'altro, rimane anche il dubbio, insomma, di cosa faranno, come la risolveranno per l'altro film. Il problema è poi che questo, il regista di questo secondo film, che poi, voglio dire, è anche il regista di Ozymandias, che è una delle puntate più belle in assoluto di Breaking Bad, e quindi una delle puntate più belle in assoluto della storia della televisione che abbiamo visto, in realtà, sì, è un grande fan di Star Wars, ma ha fatto un po' un passiccio, non so se per sua volontà oppure perché gli è stato imposto. Insomma, diciamo, secondo me va troppo sul genere cinema, troppo umorismo, troppa azione confusa, e poco Star Wars. Poco Star Wars, c'è una trovata, vabbè, questa la possiamo dire, perché già si intuisce nel film precedente che Ren, Kylo Ren e Rey, si riescono a percepire a distanza, e quindi parlano e comunicano a distanza, si sentono, si vedono, a un certo punto, alla quarta volta, sembra veramente, ma cosa stiamo facendo, cosa state facendo? Non lo so, non lo so. Luke Skywalker arriva, ma non so se ci può salvare, può salvare totalmente il film dal ridicolo involontario in certi punti, quindi non lo so, ho bisogno di vederlo un'altra volta, non lo so, oppure, non lo so, mi aspettavo di più. Già sto vedendo che la critica americana dice, ah no, il miglior film di Star Wars da secoli, ma l'avete visto Rogue One? Non credo, non credo, perché ecco, Rogue One, sì, Rogue One era proprio un nuovo corso per Star Wars, più coraggio, un gran film, azione veramente gagliarda, personaggi fichissimi, anche se con un casco orale. E quindi, insomma, per me qui non ci siamo, spero tanto per il 9, vediamo, insomma, cosa ne penserete anche voi, cosa ne penserà il pubblico, in Italia il film esce il 13 dicembre per Natale, vediamo. Comunque, intervistare il Gioia di Due, gioia della vita. Ciao. Mi serve qualcuno che mi mostri il mio posto in tutto questo.